siamo sulle pedane del tiro a volo san fruttuoso in provincia di mantova per provare una delle ultime novità per la caccia di beretta sto parlando dell'ultraleggero in calibro 20 un sovrapposto pensato per la caccia vagante con il cane da ferma per esempio per la caccia la beccaccia comunque per tutte le cacce in movimento che nella versione in calibro cadetto è ancora più ultraleggero il peso infatti per la versione con canna da 61 è di soli 2500 grammi questa versione che ha la canna leggermente più lunga da 71 centimetri ha fatto segnare sulla nostra bilancia un peso di 2600 grammi quindi 100 grammi in più che è perfettamente coerente con i dati dichiarati dall'azienda partiamo dalla bascula che sfrutta le stesse soluzioni della versione in calibro 12 ma dimensionate per il calibro 20 quindi più piccola la bascula è sempre in acciaio presa in prestito dalla piattaforma 6 e 90 ma scavata sui fianchi e sul petto quindi scheletrata alleggerita e i vuoti lasciati dalle fresature sono stati riempiti con delle piastrine in tecnopolimero che presentano una particolare finitura che rievoca un po' quella di un'incisione diciamo a volute floreali ma per l'appunto in in polimero che riporta la scritta ultra leggero in corsivo sui due lati mentre sul petto oltre la scritta ultra leggero c'è il caratteristico logo delle tre frecce dell'azienda per quanto riguarda le canne sono disponibili con lunghezza di 61 66 e 71 centimetri la geometria è la optima bore realizzate con tecnologia stilium prive di bindellini laterali per ridurre i pesi mentre la bindella superiore è sottile 6 per 6 millimetri e ventilata il fucile è dotato di un set di 5 strozzatori interni optima chocca hp da 5 stelle a una stella e in aftermarket è possibile anche acquistare lo strozzatore paradox quindi raggiato per i tiri ravvicinati per quanto riguarda la calciatura invece veretta scelto di utilizzare un noce di grado 2,5 selezionato per le doti di particolare leggerezza che è stato anche scavato internamente per contenere ulteriormente i pesi senza minarne le doti di robustezza mentre il calciolo è l'extra light che è diciamo il successore nell'ambito caccia del micro core più resistente alle abrasioni e all'umidità e più leggero del 30 per cento circa il prezzo per il fucile in questo allestimento è di 2758 euro grazie a tutti